Siamo nell'inverno del 1595, a partire da gennaio, periodo nel quale fu inaugurato il teatro anatomico. Fa freddo, il freddo è necessario per conservare il corpo che sarà l'oggetto della dissezione. Una dissezione infatti su un unico corpo poteva durare fino a una settimana. Il teatro è pieno, conteneva circa 250 persone. Gli studenti alloggiavano solitamente negli ultimi piani del teatro, mentre in quelli migliori, più vicini al corpo, con una visuale migliore e anche con un odore meno forte, perché il cattivo odore sale, erano occupati da altri docenti, sia della scuola medica, sia di altre facoltà, teologia, filosofia, matematica, sia da membri della cittadinanza, in particolare l'aristocrazia. L'autopsia, l'anatomia infatti, era considerata uno spettacolo. Uno spettacolo dal profondo significato filosofico e religioso, perché osservare la complessità del corpo umano equivaleva a osservare la massima opera di Dio. Entra il docente di anatomia, accompagnato dai massari, cioè dagli assistenti che erano studenti, che si occupavano della gestione del corpo e così via. Il docente veniva accompagnato e preceduto da un'orchestra che suonava dall'ultimo piano del teatro, suonava prima dell'inizio delle lezioni, diciamo così, per distendere gli animi e per tenere anche un po' tranquilli gli studenti, prima appunto dell'inizio dello spettacolo scientifico. Le uniche luci in tutto il teatro, le finestre erano oscurate, le uniche luci erano costituite da gruppi di candele intorno al corpo, quindi tutta la luce del teatro era focalizzato sul centro della scena, che era rappresentato appunto dal corpo umano. La struttura del teatro ha cono rovesciato una specie di canocchiale, non rivolto al cielo ma rivolto al microcosmo del corpo umano. Questa struttura aveva anche delle piccole finestrelle che venivano aperte appunto per far circolare un po' l'aria e quindi per eliminare un po' i cattivi odori derivanti dal corpo. Il corpo appoggiava sopra questo tavolo, proveniva da condannati a morte, né padovani né veneziani e che giungevano da piazza Capitaniato, dove si faceva l'esecuzione qui al Palazzo del Bo, probabilmente attraverso i canali che oggi purtroppo sono stati interrati. Il docente solitamente iniziava con gli organi addominali, perché sono gli organi che più facilmente e più velocemente vanno in putrefazione, per finire con le ossa e i resti del cadavere erano oggetto di esequi e solenni che venivano svolte presso la chiesa di San Martino che si trovava proprio qui davanti a Palazzo Bo. Prima dell'inaugurazione di questo teatro anatomico, la cui caratteristica fondamentale è appunto quella di essere un teatro stabile, venivano utilizzati dei teatri anatomici smontabili, cioè che venivano montati e poi smontati durante il periodo invernale, che come già detto era il periodo ideale per lo svolgimento delle lezioni anatomiche. Alessandro De Benedetti, stato un famoso medico e chirurgo a Padova e a Venezia, è il primo che nel suo anatomice menziona l'idea della costruzione di teatri anatomici fatti sul modello degli anfiteatri romani, come quelli di Roma e di Verona. Qui a Padova probabilmente le lezioni anatomiche venivano svolte presso il cortile antico del Palazzo del Bo, dove durante l'inverno venivano montati gli spalti per la lezione anatomica. In uno di questi teatri smontabili probabilmente ha svolto le sue lezioni il famosissimo Andrea Vesaglio, padre dell'anatomia moderna. Questo teatro fu costruito durante il Magistero di Girolamo Fabrici d'Acquapendente, che appunto era il docente di anatomia dell'epoca. I documenti sono scarsi e non ci permettono di sapere chi ha progettato il teatro, si parla di Fra Paolo Sarpi, però purtroppo non è sicuro. Alcuni dicono che il teatro fu pagato a proprie spese addirittura da Girolamo Fabrici d'Acquapendente, ma anche di questo non se ne trova traccia e anzi, essendo un'opera pubblica, fu certamente sostenuta da fondi pubblici. In ogni caso, per Padova, costruire un teatro stabile significava ritenere che l'anatomia fosse la base stabile della medicina, un concetto all'epoca piuttosto rivoluzionale. Poi la forma del teatro anche ci fa capire la grande rivoluzione che c'è stata nella ricerca e nell'insegnamento anatomico nel Cinquecento, perché prima di questo periodo le lezioni di anatomia si svolgevano già, sin dal 1300, la scuola bolognese è stata probabilmente la prima a svolgere le lezioni di anatomia sul corpo umano, sul cadavere umano, ma durante queste prime lezioni tardo-medievali, il docente rimaneva seduto sulla sua sedia dalla quale leggeva un libro di anatomia, mentre a sporcarsi le mani, diciamo così, erano i suoi assistenti e comunque era il libro di anatomia ad avere la prevalenza sulla ricerca anatomica. Mentre in questo teatro possiamo vedere che è il tavolo anatomico al centro della scena, il tavolo anatomico col corpo, quindi non c'è più un libro, ma c'è il libro della natura, cioè appunto il corpo umano. E altra differenza fondamentale rispetto alle lezioni medievali è che in questo caso, a partire da Vesaglio, ma poi la tradizione è proseguita in questo teatro, è il docente a sporcarsi le mani, cioè il docente a svolgere lui stesso fisicamente l'autopsia. Nel corso dei suoi tre secoli di vita, il teatro anatomico fu sede di straordinarie scoperte nel campo medico. Beh, innanzitutto è doveroso precisare che qui, ma anche prima, le autopsie sul corpo umano furono sempre assolutamente libere e lecite. Perché circola la diceria secondo la quale la Chiesa vietasse le autopsie sul corpo umano? In realtà non è vero, anzi la Chiesa era a favore della ricerca anatomica perché appunto l'osservazione della complessità della struttura del corpo umano costituiva una prova dell'opera di Dio, dell'esistenza e dell'opera di Dio. In questo teatro William Harvey fu studente di medicina e per esempio proprio qui osservò la scoperta delle valvole delle vene da parte del suo maestro Girolamo Fabrici d'Acqua Pendente che gli fu fondamentale per pensare alla circolazione sistemica del sangue, una rivoluzione di assoluta importanza nella storia della medicina. Qui per quasi 60 anni, dal 1775, 15 scusate, al 1771 Giovanni Battista Morgagni insegnò anatomia dimostrando che tutte le malattie, la maggior parte delle malattie ha un substrato anatomico e quindi fondando la patologia d'organo, altra pietra angolare della medicina contemporanea. Gli ultimi due docenti che utilizzarono questo teatro anatomico furono Francesco Cortese e Giampaolo Vlakovic. Vlakovic in particolare svolse qui l'ultima lezione di anatomia il 5 maggio 1874 e lo stesso giorno inviò una lettera al rettore augurandosi che questa struttura fosse mantenuta come monumento a ricordo delle straordinarie scoperte che furono fatte qui presso il teatro anatomico.